Quello che resta in noi del gesto di Bresci, della sua storia, della sua vita, è proprio quel piacere della responsabilità che lui in prima persona ha assunto, con il suo gesto, con la sua azione, con la sua stessa vita, per cercare di cambiare l'esistente, per cercare di migliorare la realtà in cui sta vivendo. E per noi la responsabilità individuale nel riuscire a fare questo è fondamentale. Sono gli individui che costruiscono la storia.